Buonasera a tutti voi, Vicenza Sacchette, operario edile, porto il sacchette dalla mattina e sera, RADORATORI! Gli porto sempre a Sacchette perché questa è la vita mia, capito? Le donne a lei cosa procurano? Sentimenti e emozioni. Musica! Dove va? Stop! Stop! Allora, stop, no, stop voi, ferma, ferma, porca miseria. Non prenda iniziative. Morisce pure il bietatore di lavoro. Tattasi! Io adoro champagne, io adoro a Sacchette, ma io ho caso scasso a skateboard. Vabbè. Cina del piacere è sempre qua. Paolo, io da già dice una cosa. No, no, non me da adesso, dopo. Io vorrei morire qui. Voglio anche sto compinando. Via! Un, due, tre, forza! Get up, get on what it up. Get up, get on what it up. Stay on the scene, get on what it up. Black sex machine, get on what it up. Grazie a tutti